Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro il San Donato, l'Arezzo ha ripreso gli allenamenti in vista della partita casalinga contro il Poggi Bonzi. Obiettivo dimenticare la trasferta sul campo del San Donato, l'Arezzo è tornata a allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Poggi Bonzi, atmosfera piuttosto tranquilla tra le fila della squadra anche se resta un po' di rammarico per come è maturata la sconfitta di domenica. L'allenamento sul campo Lebole ha fatto seguito alle 24 ore libere concesse dallo staff tecnico, seduta incentrata sul lavoro atletico nella prima parte seguita poi da esercitazioni tecnico-tattiche. Nell'ultima parte spazia una partitella contro la Juniores nazionale di Zurli. Unico assente Mancino, il centrocampista uscito nel corso della partita contro il San Donato ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Nelle prossime ore sarà valutata l'entità dell'infortunio tramite esami strumentali per stabilire i tempi di recupero. Domani allenamento mattutino alle 11. Della partita giocata a San Donato rimane il rammarico di qualche errore individuale di troppo che ha costretto gli amaranto ad alzare bandiera bianca. E tuttavia la formazione allenata da indiani è sembrata avere qualche lancia in più a suo favore. Adesso, come detto, si pensa al Poggi Bonzi e l'obiettivo è riscattare il pesante 4-0 subito all'andata. Parliamo del campionato di eccellenza Umbra. Vince il Sansepolcro la partita casalinga contro il Castiglione del Lago. Gara risolta nel secondo tempo che è stato più vivace del primo. Vince il Sansepolcro la partita casalinga contro il Castiglione del Lago. La squadra di mezzanotte ritrova l'appuntamento con la vittoria al termine di una gara non facile nella quale i bianconeri hanno dimostrato maggiore voglia di vincere. Partono con più autorevolezza gli ospiti che al sesto sfruttano un'indecisione di Arcaleni per giungere vicino alla porta di Patata. Il portiere Biturgenze si oppone al tentativo di Patrignani. All'undicesimo ancora Patata è impegnato nel bloccare un tiro di un giocatore avversario. Il primo tempo scorre via senza sussulti fino a poco dopo il quarantesimo quando il Sansepolcro va vicino alla segnatura. Quadroni si fa largo sulla sinistra e serve al centro Giovagnini. La conclusione di quest'ultimo indirizza quasi involontariamente la palla sui piedi di Braccini il quale però non trova lo specchio della porta. A inizio secondo tempo le due formazioni continuano ad essere piuttosto compassate. Al ventesimo il Sansepolcro riesce a trovare il gol decisivo. Braccini subentrato subito dopo l'intervallo al posto di Giovagnini riesce a entrare in possesso della palla e la impatta di sinistro cogliendo l'incrocio dei pali. L'estremo difensore ospite deve poi superarsi al quarantaduesimo mettendo in calcio d'angolo un bel tiro da fuori di Boriosi. Finisce con la vittoria del Sansepolcro, un successo meritato per i bianconeri contro un'avversaria di buon livello. Sono contento. Abbiamo passato un periodo dove creavamo tanto e raccoglievamo poco ma questa è la parte del calcio. Devi continuare a credere in quello che fai nel lavoro. I ragazzi sono stati bravi. Oggi sarà una partita difficile, una partita tosta. Secondo me contro una buona squadra. È una partita equilibrata fondamentalmente. L'equilibrio l'abbiamo spezzato con il gol e poi potevamo raddoppiare. Però è stata una partita di quelle che non si vedono tanto spesso a fine anno. Terra Nuova Traiana conquista l'accesso matematico ai play-off. Decisivo il punto conquistato a Pontasieve. Ora i valdernesi saranno gli arbitri della salvezza, visto che domenica prossima ospiteranno la Baldaccio Bruni Anghiari. Il pareggio a reti bianche di Pontasieve ha permesso al Terra Nuova Traiana di strappare il biglietto per i play-off. Nel giorno del trionfo del Figliere la conoscenza un pagine bianco-rossa si conferma l'ancella del campionato e approda nel posto che aveva preventivato la vigilia del torneo. E pensare che i ragazzi di Simone Caloric avevano provato a prendersi l'intera posta. Subito è Massai che porta un grosso pericolo sventato sulla linea da Mirabelli. Il Pontasieve però non è stato a guardare e ha cercato di creare dei pericoli verso la porta di Scarpelli che ha rischiato grosso con un'iniziativa che è finita fuori di poco. Clamorosa poi l'occasione sprecata da Artini che tutto solo ha spedito fuori da buona posizione. Poi per poco verso la fine del primo tempo il portiere Morandi la combina grossa. Nella ripresa contesa equilibrata e dopo una buona partenza i ritmi sono calati. Alla fine il pareggio ha soddisfatto tutti, in particolare i valdernesi. Un buonissimo 0-0. Su un campo difficilissimo contro una delle squadre secondo me oltre che più in forma ma anche ben messa in campo. Sicuramente come caratteristiche e individualità una delle migliori di questo girone. Quindi un grandissimo punto. Attività ludico-motorie di avviamento allo sport al via i corsi che l'Olmo Ponte rivolge ai bambini nati tra il 2016 e il 2019. Sono in programma da aprile fino a giugno i corsi che la società Olmo Ponte rivolge ai più piccoli a partire dai tre anni di età con lezioni di attività ludico-motoria e avviamento agli sport. Sarà un'attività dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, dal 2019 al 2016 e sarà totalmente un'attività ludico-motoria, indipendente dal calcio, di avviamento a qualsiasi sport per cercare di sopperire anche a questo periodo di bisogno in cui i bambini hanno socializzato meno e anche quelli che sono gli schemi motori di base fondamentali nella crescita, oltre che fisica, anche cognitiva, sono fondamentali. Partiremo sperando nella buona stagione ad aprile e verrà fatto il sabato mattina per ora con orario dalle 10 alle 11, ma con previsione di aumento del numero di bambini se la richiesta è maggiore. C'è dal suo punto di vista, visto che comunque rappresenta un osservatorio specifico, una incremento della sedentarietà, soprattutto nei più piccoli, complice se vogliamo anche negli ultimi anni, due anni, la pandemia, e anche una difficoltà maggiore dei bambini nell'approcciarsi a quelle che erano le attività motorie di base? Assolutissimamente sì, perché a differenza di prima, di quando eravamo piccoli noi, per esempio, siamo cresciuti sulla strada, quindi quelli che dicevo prima erano i schemi motori di base, uno li acquisiva semplicemente con il movimento stando fuori, ora la sedentarietà, i smartphone, la televisione, hanno portato un po', oltre che il Covid in questo periodo, a una chiusura sociale a livello sportivo, insomma, in tutti gli ambienti, quindi è importante per i bambini, io parlo anche per i miei figli, per tutti i bambini muoversi e fare attività sportiva, insomma. I giovani atleti, parliamo di atletica, dell'Alga Atletica Arezzo, in evidenza nella seconda tappa della Coppa Toscana Ragazzi a Siena. La manifestazione ha previsto un confronto interprovinciale tra i nati nel biennio 2009-2010 delle società delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che si sono misurati in una combinazione di prove tra salti e lanci, con la somma dei risultati che ha permesso di stilare le classifiche finali. Il migliore risultato è arrivato nel salto in lungo, dove Francesco Tortorelli ha meritato la medaglia di bronzo, mentre Stella Arniani si è piazzata terza nella classifica generale di giornata. Al campionato di società interprovinciale Cadetti, invece, è arrivata la vittoria di Lorenza De Silva nei 300 piani. È tutto per questa edizione del nostro Tg Sportivo, grazie quindi della cortese attenzione e vi invitiamo a continuare a seguire i nostri programmi. Buonasera.